Ciao a tutti amici nerazzurri, oggi voglio fare con voi il video pagelle di Lazio Inter. Ovviamente è un video serio, un video analitico, dove andiamo a dare dei voti ai giocatori, ma chiaramente anche argomentando e spiegando il perché di ogni voto. Chiaro che i giudizi di oggi saranno un po' negativi, perché ieri abbiamo perso una partita molto importante per noi, lo sappiamo, era anche uno scontro diretto, ed è ovvio che i voti ne risentano, questo è palese. Questo video, comunque questo format, non è nuovo per me, voglio capire se riportarvelo, e quindi questo dipende anche da quello che mi dite voi nei commenti, ed in generale dalle interazioni che può avere il video. Partirei dall'inizio, da Padelli ovviamente fino ad andare alle riserve che sono entrate nel secondo tempo. Padelli ovviamente è voto negativo, io sono tra quelli che giustifica il fatto che il secondo portiere comunque fa fatica, perché non gioca mai, non ha continuità, non ha la dimestichezza con la porta, con le misure, con certi ritmi, non ha una conoscenza approfondita dei suoi compagni di reparto, quindi tutte le giustificazioni del caso. Però comunque la prestazione di ieri di Padelli rimane negativa. A parte due interventi prodigiosi, molto positivi, ha fatto anche molte uscite, diciamo, fuori tempo, non chiamandosi bene con la difesa, con i reparti, quindi, e anche i gol sono stati in parte determinati proprio da Padelli, perché anche il rigore viene da una sua chiamata sbagliata, esce un po' a vuoto, la porta è libera, Devrai poi sfiora, tocca, si appoggia a immobile, forse il rigore è un po' generoso, però comunque Padelli è fuori posizione. Poi prendiamo anche il secondo gol e oltre a questo ci sono altre esecuzioni di Padelli da rivedere, anche palla al piede ha dato poca sicurezza, quindi il voto per me è 4, mi dispiace per Padelli. Devrai, onestamente, invece sente i fischi, ieri molti fischi per l'ex di turno della Lazio, chiaramente c'è il discorso del contratto, vi ricordate, con l'Inter depositato, dicono qualche giorno prima, ma è falso, perché l'Inter ha stipulato l'accordo con Devrai ancora a marzo, però chiaramente i giornali calcano su questo aspetto, che qualche giorno prima di quel famoso rigore dato all'Inter, e quindi c'erano un sacco di fischi e sicuramente questo non ha agevolato il giocatore. Condizionato forse dall'ambiente, non tenta mai la giocata, non imposta mai con un po' di personalità, come dovrebbe fare di solito, quindi non posso dargli più di un 6-. La prestazione comunque non è negativa, Devrai è una certezza, però ieri ha dato poco, secondo me, in fase di impostazione. Skriniar, Skriniar, continuo quel suo momento grigio, onestamente gli do un 5,5, qualcuno l'ha visto tanto male ieri, secondo me è esagerato, ieri non ha fatto una bruttissima performance, di certo comunque non è sufficiente, questo è palese, non è che ci sono sempre le sfumature, no? Secondo me Skriniar ha fatto qualcosa di buono quando è stato schierato a destra, non a caso quella rimonta che ha fatto due o tre anticipi molto interessanti, poi progredendo anche con qualche cavalcata a centro campo, se vi ricordate, una volta recuperata palla, e questo lo fa però quando è a destra, quando è a sinistra va in difficoltà, quindi diciamo che la bilancia tra primo e secondo tempo comunque è negativa, è sul 5,5. Io mi chiedo, Bastoni, dov'era ieri? Era infortunato? Non lo so. Godin, Godin, altro 5,5 anche per lui, un po' di personalità alla messa, sicuramente in marcatura ha fatto delle buone cose, però anche distratto in alcuni aspetti, troppi passaggi sbagliati comunque in fase di impostazione, sembra non essere ancora al 100% focalizzato su questo modulo, quindi un altro 5,5 anche per Godin, e lì la domanda è, D'Ambrosio poteva essere una soluzione? Candreva, diligente e presente devo dire sulla fascia, soprattutto per il primo tempo, poi anche nel secondo tempo comunque non male, anche se non l'ha giocato tutto, giocatore che si è visto, era fresco, ha dato il contributo che l'Inter chiedeva, ha fatto la differenza comunque su quella fascia, onestamente io do un bel 6,5 a Candreva, se lo merita, poi è uscito probabilmente un po' anche stanco, ci stava il cambio, però è uno dei giocatori più positivi di ieri. Young, sicuramente il migliore in campo anche per il gol, gli ho dato un 7 meno, anche lui primo tempo favoloso, secondo tempo anche lì abbastanza bene, poi verso il finale è venuto un pochino meno, ma ovviamente la stanchezza si fa sentire, ha corso tantissimo ieri, Young molto bene in difesa, ha fatto 2-3 interventi veramente interessanti, veramente ben centrati, vuol dire che ha una fase completa tra difesa e attacco, e poi ovviamente anche in attacco, oltre a fare il gol, è un giocatore che riesce a puntare l'uomo, che ha personalità, che ha fiuto della giocata, quindi mi è piaciuto, 7 meno per Young. Young, Brozovic, buona gestione della palla, sacrificio, non troppo determinante, purtroppo non è mai riuscito ad illuminare lì in mezzo, anche perché comunque il Lazio è una squadra organizzata, chiaramente tutte le giustificazioni del caso ci sono anche gli avversari appunto, però secondo me è una sufficienza, Brozovic ieri non ha giocato una brutta partita, tutto sommato gli do un 6, Vessino lo premio con un 6+, perché è un giocatore che, ripeto, molti non vedono, molti si aspettano da Vessino che faccia gioco, ma Vessino non è un giocatore che fa gioco, è un giocatore che fa incursioni, che ci mette il fisico, che legge le giocate, che si presenta in area, portando centimetri e pericolosità, aggiungendola a quella delle punte. Quello è il ruolo di Vessino e lo fa egregiamente. In tutte le azioni pericolose dell'Inter c'è sempre lo zampino di Vessino, o diretto perché proprio tocca il pallone o finalizza, oppure passivo perché porta via avversari, apre degli spazi, colma degli spazi e quindi è un giocatore in questo momento molto importante dal punto di vista delle caratteristiche per l'Inter. Quindi 6+, per Vessino. Barella 5,5. Non mi è piaciuto per niente il suo primo tempo, era spaisato, ha patito tanto Milinkovic-Savic. Nel secondo tempo ha fatto qualcosina meglio, è un giocatore che comunque dà sempre grande contributo, grande sacrificio, è un giocatore infinito, è un motorino pazzesco, non si stanca mai, quindi lo premio assolutamente sotto questo aspetto, però comunque ieri non si è visto il Barella che dà qualità e che dà quel qualcosa in più a centrocampo, quindi non gli posso dare una sufficienza piena, non è neanche un'insufficienza, è un 5,5, un voto abbastanza neutro diciamo. Lautaro, ragazzi, devo dire anche lui non molto bene, onestamente ha delle giustificazioni, nel senso che le sue colpe sicuramente sono quelle di non essere stato magari ieri in palla o brillante, e probabilmente era anche un po' distratto dalle voci di mercato, mi viene da pensare, non fanno bene queste voci che continuano sempre a uscire, per quanto riguarda l'Inter, soprattutto più delle altre squadre, e quindi i giocatori poi si deconcentrano, in campo non rendono al 100%, quindi voto 5,5 per Lautaro ieri, non gli do meno perché una frazione di colpa non è sua, ma è di chi l'ha messo in campo, cioè ieri Lautaro ha fatto praticamente il marcatore di Lucas Leiva. Eh, ragazzi, Lautaro non puoi limitarlo, secondo me è un giocatore che deve essere abbastanza libero, certo, è un giocatore che fa sacrificio, che torna, che pressa, però non che marca, non che fa il marcatore da trequartista centrale praticamente su Leiva, quindi così lo limiti e lo condizioni, secondo me quindi ha delle giustificazioni. Lukaku, qualcosina in più, gli do un 6-, non gli do una sufficienza piena, perché anche lui ieri non è stato brillantissimo, però comunque il solito lavoro, il solito sacrificio, le solite sponde, anche a battagliare contro difensori che non lo mollano un secondo e che usano tutta l'energia possibile per destabilizzarlo, eppure lui dà sempre il suo fisico alla squadra, quindi diciamo una quasi sufficienza comunque la porta a casa. Moses, adesso arriviamo alle riserve, Moses, diciamo ordinaria amministrazione, è entrato in campo gli ultimi dieci minuti, non poteva fare chissà che, ormai l'Inter era un po' spompata, non c'è stata chissà quale reazione, faccio fatica a dargli un voto, quindi gli do un 6- politico, onestamente. Eriksen, qui c'è da fare un po' un discorso, non gli do una sufficienza piena, non gli do neanche un 6- politico come a Moses, gli do qualcosa in meno, forse un 6-, ecco potrebbe starci, però anche lì, ragazzi, è entrato, ha dato grande visione di gioco, facilità di tiro, è entrato, ha fatto due tiri, uno meglio dell'altro, velocità rapidissima, esecuzione perfetta, c'entra sempre la porta, tiro che sia di destra o di sinistra, sempre azzeccatissimi, corre un pochino, questo è vero, dal punto di vista non tanto di chilometri perché ne percorre di chilometri, però li fa con poca grinta, ed è per quello che gli do il 6-, però effettivamente Eriksen non possiamo pensare che sia Vidal o Vecino, Eriksen è un giocatore diverso, va utilizzato per quello che ti può dare, è un giocatore che quando è entrato ti ha dato subito visione di gioco, passaggi filtranti, possesso e anche pericolosità quando è stato davanti, però in 10 minuti mi rendo conto che posso fare anche poco, è per quello che non posso dargli un giudizio troppo negativo, può fare poco e soprattutto Conte lo sta forse utilizzando non in maniera del tutto appropriata, Eriksen è Eriksen, non può fare il Vidal, questo è un po' la sintesi. Sanchez, non so, is the new header, è un giocatore che entra gli ultimi 5 minuti, gli si chiede di fare il miracolo, ma è difficile incidere in 5 minuti, soprattutto un giocatore come Sanchez che ha bisogno di annusare il campo, di avere continuità, che ha grande qualità, che può veramente essere importante per noi, ma dovrebbe essere forse utilizzato in maniera un po' diversa, ecco, non solo quando sei disperato, quindi io do un bel voto 10, come dice Alessandro Borghese, per la comprensione, ovviamente, altrimenti dovrei dargli un 6 politico, questo è chiaro, il mio 10 è provocatorio. Conte, Conte onestamente è male, gli do un 4 e mezzo ieri, perché ha troppe responsabilità, le scelte tattiche discutibili, di cui ho parlato ieri nel video post partita, del pressing, della fase di contenimento della Lazio, la scelta di Lautaro come marcatore di Lucas Leiva, invece di tenerlo come seconda punta e magari avanzare un centrocampista, cosa che non ho capito, chiede a Eriksen un lavoro che Eriksen non fa e lo limita nelle sue caratteristiche, come ha limitato ieri Lautaro Martinez, giocatori che non puoi limitare, non puoi limitare gente come Sanchez, come Lautaro, come Eriksen, gente puramente di qualità, gente che ha personalità, che sente la giocata, nulla può indottrinare. Questo, in termini tecnici, si chiama overcoaching, vuol dire dare troppi schemi a dei giocatori che in realtà dovrebbero avere anche un margine di libertà, questa è una cosa che rischia di essere dannosa, in generale per tutti gli sport, qualche giocatore che ha personalità e che ha capacità devi lasciargli un margine, non totale anarchia, non è anarchia, però un margine devi lasciarglielo e quindi anche questa è una cosa che va un po' a discapito del voto di Conte e poi non gestisce magari bene le energie, i cambi troppo tardivi, insomma troppe responsabilità, poi toglie Brozovic invece di togliere magari Barella, Brozovic era fondamentale tenerlo magari in campo ieri, Barella soffriva invece molto della fisicità e i centimetri dei giocatori della Lazio, quindi probabilmente era da togliere proprio Nicolò ieri sera, voto purtroppo negativo, 4 e mezzo, non posso dargli di più, bisogna dire le cose come stanno. Penso di essere arrivato in fondo, se mi sono dimenticato qualcosa me lo direte a voi, ricordo a tutti gli abbonati del canale, che ovviamente ringrazio per il supporto e grazie anche a voi che il canale va avanti e a tutti quelli che vogliono sostenerlo e magari abbonarsi in futuro, ricordo che c'è il gruppo Telegram, per chi non è ancora entrato, privato proprio per gli abbonati che dà la possibilità di interagire con me, di chiedermi qualsiasi tipo di cosa e quindi di avere un surplus di informazioni. Ragazzi vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate del video, del format, condividete, lasciate un like e ci vediamo sicuramente a prestissimo con le prossime partite, perché adesso arriva anche l'Europa League, quindi c'è tutta la gestione sicuramente da fare delle varie gare e della rosa. Ciao a tutti e Forza Inter!